Il regamento, mi dispiace, tra tutti quegli partecipanti del Master è stata Sisterly. Le borse, ma anche le proprie passioni, i propri consigli, quindi questi Sisterly Advice che si daranno, saranno proprio come stanno facendo ad oggi. Se c'è una ragazza che ha un matrimonio, un evento, mi dice guarda io ho questo vestito, ci chiede consiglio su che borse potrei abbinare, quindi proprio come farebbero le sorelle allo stesso modo vogliamo creare questo senso di sorellanza tra gli utenti. Buongiorno a tutti in questo nuovo video, oggi siamo qua con Bertelizio Gianluca, buongiorno a tutti. La prima domanda che vi faccio è, di dove siete e che formazione avete avuto? Inizio io, come le donne. Sì, è l'età. Allora, io sono di Pazzaro sull'Origo, quindi in provincia di Brescia e ho studiato il liceo linguistico, quindi una formazione un po' più umanistica, poi ho vissuto all'estero quattro anni perché l'ho appassionata appunto lingue straniere. Ho studiato comunicazione e pubblicità e remarketing e poi sono rientrata in Italia a Milano per un Master in Bocconi in improntalità e strategia aziendale dove ho conosciuto Gianluca. Io sono di Roma, rispetto a Beatrice ho un background un po' più tecnico dal lato economico, soprattutto dal lato corporate finance, ho una triennale magistrale in LUIS di Roma e poi ho iniziato un percorso lavorativo in ambito M&A e private equity, quindi finanza aziendale sostanzialmente e poi come già accennato Beatrice nel 2020 ho intrapreso questo percorso nella Business School della Bocconi con un Master in imprendizia e strategia dove ho conosciuto lei e poi dove è nato anche quello di cui andremo a parlare. E quanti anni avete? Io sono del 96 quindi ho 25 anni. Io sono del 95 quindi ho 26, vado per i 27, l'abbiamo realizzato la settimana scorsa ed è stato un attimo di impatto. Certo, ho la stessa anche io e ci si è avvicinita in Italia. Esatto, perché dici 25 e 26, no vabbè. Esatto, quando hai su 27 ne mancano tutte le. Allora sono ancora salva, li provo a inghiarmi. Sì, sì, sì. Capiamoci un attimo, però va bene, dai, maturiamo, non invecchiamo. Certo, cosa facevate dieci anni fa? Faccio questo domande. Vado io? Vai. Io dieci anni fa ovviamente studiavo, ero ancora al liceo. Sì. Ma a far ridere perché io dieci anni fa sognavo di fare quello che faccio oggi. Io ho sempre voluto creare qualcosa di mio, ovviamente non da solo. Non avrei mai immaginato l'avrei fatto poi con quella che, anche la mia ragazza, oltre che socia. Però in realtà ho sempre sognato di fare qualcosa di mio, di aprire la mia azienda, probabilmente anche per retaggio familiare. Però oggi sto vivendo quello che dieci anni fa sognavo di fare. Mi dice contento e... Assolutamente sì. E' positivo per il futuro. Diciamo che non mi aspettavo di noleggiare borse, questo bisogna dirlo, però sì, assolutamente. E quindi raccontatemi un po' di cosa vi occupate oggi. No, no, mica possiamo saltare la domanda, anche lei, è domanda difficile. Ecco, ho visto che... Infatti, infatti io voglio resentirla, però... Dieci anni fa cosa facevi? Ho 25 anni, dieci anni fa, 15, vivevo ancora a casa con la mia famiglia, quindi studiavo al liceo. Diciamo che tutto quello che ho fatto da dieci anni fa a questa parte è quello che mi ha portato a essere quello che sono adesso, quindi vivendo a casa, comunque respirando un po' lo spirito impenitoriale in famiglia comunque di mio papà e dall'altra parte mia mamma sicuramente mi ha influenzato con la sua passione della moda, delle borse, ecco, quindi diciamo che c'è un perché a tutto questo. Perché tua mamma è molto appassionata di moda. Esatto. Quindi, diciamo, ogni tanto io rubavi le borse. Tutt'ora, non ogni tanto, però. Tutt'ora. Quindi, adesso raccontatemi un po' di cosa vi occupate quest'oggi. Allora, come accennavamo, abbiamo iniziato durante il master, avevamo un laboratorio di creazione di start-up, ogni gruppo doveva portare un'idea. Quindi questo in università. È nato in ambito accademico durante il master in Bocconi. Business school, lato business school, non è proprio universitario. Esatto, era proprio un progetto non teorico, diciamo, proprio creare una start-up nel senso da un'idea, fare una validation, un market research, un MVP e poi fare un pitch a degli angel investors. E l'idea, appunto, che ha vinto, mi dispiace, tra tutti quelli partecipanti del master è stata assisterli. Dice, mi dispiace, interrompo un attimo, perché io in realtà ero in un gruppo concorrente, ho portato la mia idea, sono stato veramente distrutto in proprio modo becero. Allora sono salito sul carro della vincitrice, no, io gli ho detto subito che era una grande idea, però ovviamente da esercizio di stile accademico doveva poi essere vestito, passare tutto in quel processo di problem solving per essere reso effettivamente portabile sul mercato reale. Quindi a quel punto ho finito il master. Che è quello appunto che abbiamo fatto fino ad oggi. Finito il master, per concludere il master in realtà avevamo bisogno di fare uno stage, un project work, quindi abbiamo abbandonato questa idea da Ivy Sisterly, abbiamo lavorato lui in M&A e io invece in un'agenzia di influencer marketing, PR, digital PR, che appunto mi è servito anche quello per poi iniziare a prendere in mano un progetto concretamente, adesso siamo full time da giugno praticamente. Abbiamo costituito la società a luglio e settimana prossima finalmente lanceremo l'applicazione. Ok, quindi questa startup è nata, diciamo, dalla Bocconi, cioè comunque il vostro professore. Da qua in realtà, non so, perché c'è sempre stata in mente. Quindi voi eravate divisi a gruppi, voi studenti, quindi non da una persona. Esatto. Cioè la sua idea ha vinto, ma... No, praticamente ogni persona va a portare un'idea e poi il gruppo che era composto da cinque o sei persone doveva scegliere un'idea per il gruppo. Quindi andava a votazione. Esatto, noi avevamo sei idee e tra tutte queste sei hanno scelto di portare avanti la mia. Poi eravamo in sei gruppi, quindi ogni gruppo aveva una nostra startup, ognuno ha fatto il pitch e di queste sei ha vinto a Sisterly. Dalla Bocconi poi come avete realizzato questo progetto? Cioè come avete pianificato il tutto e come avete portato avanti l'idea proprio di costituire una società per poi comunque mettersi sul mercato è comunque un'attività innovativa. Certo. Io personalmente non ho mai sentito, hai detto... Non sei il target. Che affittano borse. Allora... Comunque, la gente normale può anche sembrare strana. Certo. Va bene. Comunque è una cosa abbastanza delicata ma diventa alti nella mente anche come concetto. In Italia diciamo che è una cosa nuova. Esatto. All'estero, in USA, UK, il renting è una cosa molto più normale diciamo, invece è più abituata. Comunque in realtà il renting qui in Italia già c'è, c'è da tanti anni. Mi raccontava l'altra sera mia madre che lei già le 92 si era informata per noleggiare un vestito, una cerimonia. Sotto abiti da cerimonia. Sì, io non lo so. Il tema è... Dov'è diverso Sisterly e perché Sisterly ha veramente avuto bisogno di tanto tanto brainstorming e perché Sisterly è scalabile rispetto agli altri modelli presenti in Italia? Che il modello presente in Italia standard è il negozio che ha X borse o la persona fisica che ha X borse, si fa il suo sito e le noleggia, quindi 20-30 borse. Noi non siamo questo, noi siamo peer to peer. Questa è la vera rivoluzione di Sisterly. Sisterly dà la possibilità alle persone di caricare sulla nostra piattaforma, l'applicazione che diciamo sarà disponibile dal metà dicembre, le proprie borse e poi quindi saranno quelle che ci piace chiamare Lender Sister. E dall'altra parte invece ci saranno coloro che vogliono prendere in affitto le borse, e quindi le borrower Sister. E questa che è la vera forza di Sisterly, quindi l'essere peer to peer, anche volendo la complicazione. Perché ovviamente le borse non passando direttamente da noi, noi abbiamo dovuto strutturare tutti dei meccanismi, sia ex-ante ma anche in itinere, per dare la certezza e la sicurezza completa sia lato Lender che lato Borrower. Certo. E questo è quello che dicevo prima quando dicevo di dover passare da un esercizio di stile a qualcosa di effettivamente fattibile. Quindi per rispondere alla tua domanda, cosa abbiamo fatto da giugno in poi? Questo. Noi da giugno in poi abbiamo preso Sisterly, l'abbiamo destrutturata, abbiamo detto cosa funziona a livello teorico, cosa funziona a livello pratico. Tutto ciò che a livello pratico non funziona, trasformiamolo, ripensiamolo, chiediamo. Noi una cosa che dicevamo sempre è che noi abbiamo il nostro background, siamo forti, abbiamo le nostre idee, spacchiamo, però abbiamo l'unità per dire con ogni persona con cui parliamo cerchiamo di farci dare consigli. Certo. Perché alla fine magari non ti dà la soluzione ma ti dà uno spunto e tu poi arrivi alla soluzione. Come un puzzle comunque. Esatto. Tassello per tassello. Tassello per tassello lo completi facendoti aiutare perché non c'è nulla di male per farsi aiutare anzi. Io poi sono sincero, io penso che sarò uno dei primi follower su Sisterly perché appena avevo visto che avevi creato una pagina Instagram, l'ho seguita e ti chiedo il nome Sisterly, da dove deriva perché poi io seguendo le storie l'ho visto, pensavo comunque appunto con la sorella avessi fatto questa cosa, ma invece poi ho scoperto di nuovo. Spiegami un po' da dove viene il nome Sisterly. Allora, il nome viene proprio dal termine Sister, quindi può trarre l'inganno al fatto che io ho una sorella e ci scambiano le borse appunto. Però proprio come le sorelle si scambiano vestiti, l'armadio e tutto, allo stesso modo vogliamo creare questa community tra lender e borrower sisters, per questo le chiamiamo così, perché non condividono soltanto poi l'armadio, quindi le borse, ma anche le proprie passioni, i propri consigli, quindi questi Sisterly Advise che si daranno, saranno proprio come stanno facendo ad oggi, se c'è una ragazza che ha un matrimonio, un evento e mi dice guarda, io ho questo vestito, ci chiede consiglio su che borse potrei abbinare, quindi proprio come farebbero le sorelle, allo stesso modo vogliamo creare questo senso di sorellanza tra gli utenti. E questo, scusami se ti interrompo, è anche il motivo per cui, come dico sempre, gli economisti non devono avere idee, io da economista non devo avere idee, devo aiutare a farle funzionare, perché io come economista, quindi gli economisti partono 9 volte su 10 con un bias, ovvero devo avere un'idea che mi faccia fare soldi, è completamente sbagliato, e io lo so, infatti io non ho mai avuto un'idea che dico veramente, ma forse l'ho avuto e però non ho mai veramente creduto nella cosa, io invece la cosa che dico è, gli economisti devono prendere un'idea che ha avuto qualcun altro, e capire come può essere resa sostenibile economicamente, l'idea di Beatrice, cosa è, veramente rende tutto speciale, io glielo dico sempre, che lei non è partita con l'idea, ah come posso fare un business, lei è partita con l'idea come posso risolvere un problema, come posso aiutare magari quelle ragazze meno fortunate di me, e non solo dal lato economico, ma anche semplicemente al fatto che magari non hanno una sorella con cui condividere, non hanno una mamma appassionata, e però magari hanno questa mancanza, come posso io risolvere questa mancanza? Questa mancanza la risolvo con Sisterly, perché è una cosa che non abbiamo detto di Sisterly, tutto l'altro della community, Sisterly Talks, accenniamolo, infatti quello che diceva, proprio perché si baserà su un sistema di feedback, reviews, che rendono questo rapporto tra gli utenti più trust, cioè si fideranno l'un l'altro perché ci saranno le recensioni, quindi dicono ok, io so questa persona, quanto non è già fatto, come si sono trovati, quindi sono anche più predisposta a lasciare la borsa. Ti fermo un secondo, che tipi di borse comunque offrite sul mercato? Nel senso il vostro trend è alto comunque. Sì, allora noi vogliamo essere borse di lusso, accessibili alle persone, perché la nostra mission è quella di risolvere l'esigenza da una parte di chi magari ha tante borse, che non utilizza, perché ovviamente si riesce con una borsa sola, quindi gli armadi pieni di cose che non vengono utilizzate, che sono asset, quindi da cui si può guadagnare, magari uno vuole venderlo perché dice che un domani torna di moda, altrimenti in questo modo la può mettere a disposizione per altre persone. Dall'altra parte invece c'è chi vorrebbe avere questi beni di lusso, però non può permetterseli perché comunque costano tanto, oppure perché non vuole comprarli, dice per metterlo una volta o comunque per un'occasione speciale, so che ha un colore particolare, non mi convince così tanto, non lo compro, quindi scelgo di noleggiarlo. Quindi le nostre borse in realtà spaziano molto da mini clutch per le serate importanti, borse colorate, borse da giorno, un minimo, l'entry level diciamo che accettiamo è minimo 550 euro, quindi per scartare quei brand che non sono identificati, non si posizionano come lusso e quindi abbiamo borse di Chanel, di Dior, di Gucci, tutti i brand che comunque sono alta gamba fashion, per il momento abbiamo borse fino a 7.000 euro che vengono maleggiate comunque a partire da 15 euro al giorno, quindi comunque sono molto accessibili. Poi ovviamente il catalogo è in continuo aggiornamento perché come dicevamo, essendo peer to peer è potenzialmente infinito, dipende dalle lender cosa vorranno caricare, quindi se uno mi carica un Hermès in coccodrillo da 50.000 euro, ci sarà la borsa. Ok, non sapevo neanche l'esistenza. Tra l'altro se la trovi a 50.000 euro la compriamo perché la rivendi subito a 150, quindi. Ma perché comunque esempio, io metto il caso che avessi una borsa, non so, da 1.000 euro e dico che è tenuta bene, come nuova l'ho messa due volte, quindi voglio affittarla. Io vado su Sisterly, la carico e posso affittarla tramite la vostra app. Esatto. Ok. Esattamente. In questo modo c'è la piattaforma. Quindi permetti a tutti comunque di poter, per virgolette, uno fare business e mettere in mostra il tuo prodotto. Esatto, guadagnare dal noleggio oppure risparmiare sempre dal noleggio dall'altro lato. Ma come funziona il noleggio? Nel senso, io noleggio una borsa, abito a Sarnico, ok? Quindi affitto la borsa, faccio l'ordine online e la borsa mi arriva a casa. Esatto. Sì, abbiamo tre modalità in realtà. Ok. O la consegna, quindi in questo caso, se tu sei di Sarnico, noi se veniamo in questa mattina da Palazzolo, possiamo accordarci per la consegna face to face. Sì, ok, in questo caso che è vicino sì. Oppure se sei nella stessa città, appunto, possiamo concordarci proprio per quel senso di community che dicevamo. Quindi voglio conoscere a chi do la borsa, possiamo anche incontrarci, che è un po' quello che stiamo facendo noi fino ad oggi. Ed è proprio anche il bello di sapere chi la sta utilizzando. Ti dico, guarda, stai attenta a questo, comunque c'è quel rapporto un po' più personale. Altrimenti se siamo sempre nella stessa città, magari a Milano, comunque tanti città in cui c'è anche il servizio di globo, per esempio il fattorino, c'è il rider che me la porta, oppure se siamo in due città diverse o comunque non siamo disponibili per la consegna, c'è il Corriere Espresso che la venga a prendere e la porta. Certo, e c'è anche comunque una parte assicurativa, comunque pure in mano. Non so, una borsa da 7.000 euro. Ah, quanto costa? 25 euro? Quella anche un po' di più, però. 50, 100 euro, però comunque da un valore di 7.000 euro. Certo. Quindi c'è compresa anche, non so, l'assicurazione. Cioè, come avete strutturato la questione? Allora, un'assicurazione, prima di tutto come citavamo prima, abbiamo delle barriere ex-ante. Quindi ad esempio per utilizzare il servizio bisogna effettuare il login con lo speed o con un'identità digitale verificata e equiparata. Quindi ad esempio c'è un servizio che mandandoci documenti ci accorgiamo a questo provider esterno e verifica l'identità. Quindi già quello è una bella barriera. Oltre ciò, ovviamente abbiamo una contrattualistica ben definita e questo ex-ante dovrebbe scoraggiare quantomeno determinate persone a riuscire sul nostro sito. Lato invece più operativo, mi arriva una borsa, si danneggia, noi abbiamo un'assicurazione che è strutturata come Financial Loss, offriamo un'assicurazione che permette appunto la riparazione dell'oggetto o con dei nostri riparatori certificati, qualora ci siano danneggiamenti. L'unica cosa che non possiamo assicurare, essendo peer-to-peer, e perché ci apriremo alla collusione essenzialmente, in modo che non può essere evitato, è il furto. Quindi ipotizzando che io noleggio una borsa e mentre la sto utilizzando mi venga rubato, in quel caso io non posso come sister offrire un'assicurazione, perché offrire un'assicurazione sul total damages in questo caso implicherebbe che se render e borrower si mettono d'accordo, io non ho alcun modo per... No, assolutamente. Perché comunque è anche rischioso, quindi calcolando tutto... Sì, esatto. Non essendo un bene mobile non registrato, un'automobile comunque la registrazione, cioè la borsa è un po' più complessa. Sì, diciamo che abbiamo studiato tutte quelle pratiche che riescono a garantire, tutelare sia la lender che la borrower, quindi... No, no, no. È una nobilissima idea, ragazzi. E come vedete sister di tra dieci anni? Cioè adesso lo siete all'inizio, ma visto comunque, come dicevate prima, è un progetto a lungo termine comunque da costruire, tra dieci anni è come vi immaginate? Allora, tra dieci anni non ci abbiamo ancora pensato. Noi abbiamo una vision a cinque anni che abbiamo immaginato e sister di luxury sharing avrà poi altre quattro linee di business e che per ora teniamo ancora... Possiamo spoilerare magari il caffè, quello ci può stare a live. Sì, sistema di caffè, quindi, perché, visto che quello che abbiamo detto, creiamo una community... Immaginance è nata da un'esigenza. Noi volevamo avere anche dei pick-up point fisici. Un po' come i lockers di Amazon, però fatti fighi, perché non volevamo il classico locker. Quindi da lì abbiamo detto mettiamo dei locker bellini in punti strategici di Milano. E poi da lì Bea è andata oltre. e ho detto, ok, ma se noi vogliamo costruire tutta questa logica della community, di vederci, perché questi locker devono essere asettici? Rendiamoli, invece, inclusivi. Quindi creiamo intorno a questi locker un caffè, una sorta di mini Starbucks, dove le persone possono andare lì e prendersi il caffè, o scambiarsi le borse di persona, o andare lì nel locker, prendere la loro borsa e poi prendersi un caffè, conoscersi, comunque fare community, fare network. È una figata. È il punto d'incontro tra le... E dove c'è? Il dove ovviamente ancora è un attimo in fase di definizione. Il primo sicuramente a Milano. Sicuramente a Milano, in un posto strategico. Però idealmente... Molto bello, veramente. Comunque è molto innovativa anche come idea. Sì, poi è tutto comunque molto brandizzato, crediamo tanto nel... Immagino, possiamo... Abbiamo chi ci aiuta con i mobili, l'arredamento, quindi... Appunto, cosa dicono i vostri genitori, i vostri amici di questo progetto? Cioè, vi appoggiano, sono un po' scettici? Ma all'inizio non capivano bene il... Ok, è un progetto che potete magari fare nel tempo libero. Ok. Non credevano magari davvero nel potenziale. Poi noi, avendo già in mente il progetto, non soltanto in questo momento, ma proprio un po' più a tre anni, a lungo termine, avendo in mente comunque come poteva scalare questo progetto, quindi non soltanto focalizzato in Italia, ma magari anche all'estero, tutte queste linee di business, o comunque non soltanto per le borse, chi lo sa, magari ampliare ad altri prodotti. E quindi noi abbiamo davvero messo tutte le nostre risorse, energie, che resiste le full time. E da una parte mio papà sembrava quasi più dispiaciuto per il... Ok, probabilmente allora poi non verrà in azienda. Mia mamma invece è entusiasta, perché adesso compra più borse. Quindi ha la scusa in più per comprare. I miei invece sono stati sin da subito, d'accordo, con la scelta loro comunque. Ora hanno sempre saputo che io volevo fare questo, mi hanno sempre appoggiato, mi hanno sempre detto, fai... Anche per come sei tu, è quello che devi fare. Trovare la tua strada da solo, senza... Quindi i miei erano assolutamente propensi a vedermi imbarcare in questa avventura, anche perché una cosa fondamentale che vogliamo dire sulle start-up, è che magari domani Sisterly, magari domani Sisterly non va bene, troviamo dei problemi, dobbiamo cambiare business, inventarci qualcos'altro, ma io vi assicuro che l'esperienza che ci ha dato Sisterly in questi sei mesi, tu non la fai con anni e anni di lavoro da analista in una banca di investimento, da... Beh, penso la stessa cosa, nel senso che l'esperienza nell'attività comunque ti fa crescere di forma anche diciamo al mondo imprenditoriale. Ovviamente se lavori sotto qualcuno, e se lavori per te stesso, cambia un sacco, soprattutto quando sei giovane. Cioè vedo io, comunque con Matteo, adesso a febbraio, al settimo anno di attività, e per tanti anni che lavoriamo insieme. Le esperienze comunque abbiamo acquisito, cioè non la metti in banca, cioè non vale denaro, quindi secondo me è molto... è molto bello avere un'attività, comunque molto motivante, cioè comunque ti svegli la mattina, e devi pensare che devi portare avanti l'attività. E tutto quello che fai... è faino nel tuo sacco, cioè se va bene, grazie a te se va male, in virgolette, è colpa tua. E fa tanto secondo me di iniziare un business così giovani, anche il team, perché il nostro punto di forza, devo dire che è l'unione delle nostre competenze molto diverse, che però fondamentali, complementari. sì, è vero, io quello che ho sempre detto a lei, se io avessi dovuto iniziare questo business con una persona con un lato tecnico come il mio, non ci saremo arenati sin da subito, perché non c'è il... quella complementarietà che invece abbiamo trovato noi è veramente un perfect match. Ovviamente qualcosa ci manca, perché ad esempio ci manca il lato tech, e in quel caso devi affidarti a qualcuno di esterno. Se non hai qualcuno che vuoi internalizzare, nel nostro caso volevamo rimanere noi due. Cosa fa di bello Sisterly per il pianeta? Ma allora, Sisterly rientra nella moda sostenibile circolare, proprio perché trattandosi di sharing economy, della condivisione quindi, diciamo che la nostra visione è quella di rendere il lusso e la moda sostenibile e accessibile un noleggio alla volta, perché ogni noleggio che viene fatto riduce gli sprechi dal punto di vista dell'acquisto e utilizzo di una sola volta, rende i prodotti magari già di proprietà di avere qualcun altro accessibili appunto a altri utenti. Certo. Ti sei emozionata. Già l'ultima, cosa dici? Dal punto di vista della sostenibilità, Sisterly è super coerente e noi, nonostante facciamo anche Tu non è che sei! Abbiamo anche delle... Le faglie, le faglie. Sì, sì, sì. Sisterly dal punto di vista della sostenibilità è coerente già con il proprio business model. Come direbbe un mio professore, è embedded nel business model di Sisterly stesso, perché si va a inserire in tutto quel filo della sharing economy, della moda sostenibile. Quindi, nonostante, comunque avremo, abbiamo già in cantiere alcune iniziative per aiutare l'ambiente in modo esplicito. È lo stesso business model di Sisterly che va a aiutare l'ambiente. Noi, ad esempio, abbiamo sul nostro sito un algoritmo che va a calcolare, a paragonare essenzialmente il noleggio della borsa, di una borsa di un pelle da tot mila euro, è un algoritmo dinamico, quindi noi sono elezionando il materiale e il costo. Va a paragonare il noleggio di questa borsa rispetto all'acquisto della stessa e il singolo utilizzo e va a vedere noleggiandola invece di acquistandola quanti chilometri in auto risparmiamo o quanti alberi, l'abbattimento di quanti alberi evitiamo. Quindi questo è un algoritmo certificato e è una cosa molto interessante perché quando effettivamente ti mettono davanti agli occhi quello che stai risparmiando operando in questo modo quindi noleggiando una borsa invece magari di luogo di comprarla ti rendi conto di quanto anche un piccolo gesto può effettivamente aiutare l'ambiente. Sì perché sappiamo che scusa se ti interrompo il settore della moda comunque è la seconda industria più inquinante al mondo quindi non lo sapevo ecco quindi non l'avrei mai pensato eh sì e quindi questo perché perché il fast fashion comunque induce la gente a comprare prodotti che poi utilizza una singola volta poche volte e poi butta via scarta lascia negli armadi in questo modo noi vogliamo creare quella condivisione quella sharing di borse che rendono il lusso più sostenibile uno legge alla volta quindi l'impatto ambientale da questo algoritmo che vogliamo far risaltare è proprio quanto risparmiare quanto vai a risparmiare noleggiando questo item rispetto all'acquisto e singolo utilizzo e ovviamente oltre tutto ciò noi abbiamo creato anche in tutto quello che è il nostro la nostra customer journey abbiamo voluto rispecchiare questa nostra attenzione per l'ambiente quindi l'intera customer journey per esempio è paperless non c'è l'utilizzo di carta o anche il packaging che arriva e addirittura il materiale neanche riciclato ma compostabile quindi paradossalmente può essere utilizzato per poi come piantare sì per piantare per nascere una pianta sisterly non sono sicuro che esca poi perde esatto quello non garantiamo perché ormai bisogna dire anche questo non garantiamo che crescano una pianta di borse però dovrebbe crescere una pianta almeno così ci hanno venduto il sacchetto che costava molto che ci credo almeno li usano per fare l'orto esatto è molto importante secondo me la sostenibilità economica perché comunque siamo in un momento abbastanza saturo diciamo dell'inquinamento e c'è bisogno un po' di tutti e ci aiutiamo tutti per salvaguardare l'ambiente questo sicuramente è molto importante è un tema comunque che adesso è all'ordine del giorno e l'ultima domanda che vi faccio è ragazzi se se il mondo finisse domani cosa fareste oggi ma consiste un po' io io considerando il piano di stress che in questo momento abbiamo detto che ora abbiamo il lancio dell'applicazione e tutto mi metterei sul letto si prenderei lei l'abbraccerei ora sto qua e no scherzi a parte probabilmente cercherei di di prepararmi e comunque guardare quello che ho fatto finora e immaginare quello che avrei potuto fare esatto quella risposta comunque ragazzi ripeto grazie mille per essere stati con noi oggi e di aver accettato il nostro invito buono alla prima spero che Sisto li vada al meglio possibile e grazie a tutti per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo buona giornata a tutti grazie grazie a te mi è piaciuto posso? bravo ci sarà un po' la taglia e cuci grazie a tutti 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 grazie a tutti